L'audio che segue deve essere usato esclusivamente a fini terapeutici in particolare quelle sere in cui torni a casa dopo una giornata molto impegnativa il tempo cattivo, il traffico impossibile, colleghi insopportabili, il capo incontentabile problemi nella vita di coppia e chi più ne ha più ne metta ecco, allora accendi la candela aromatica ayurvedica metti su la fontanella zen con il gorgoglio dell'acqua sui ciotoli la sciarpa colorata indiana sulla bajur indossa le cuffiette, chiudi gli occhi, rilassa le spalle respiro profondo e... Ed ora andate tutti a fanculo Tutti a fanculo in ora Andate tutti a fanculo Tutti a fanculo in ora Andate tutti a fanculo Tutti a fanculo in ora Andate tutti a fanculo Ci siete stati sul cazzo fin da subito Avete delle facce di merda Non potevamo celarvelo Non potevamo celarvelo Fino in fondo Non sarebbe stato onesto intellettualmente La parte di chi come noi Si prodiga per mandarti a fanculo Andate tutti a fanculo in ora Andate tutti a fanculo Tutti a fanculo in ora Andate 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 tutti a fanculo in ora 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 Tutti a fanculo in ora